Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Ci direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, che neppure la Basilica di San Pietro. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.